Ma le piante percepiscono il freddo? Sì, certo. Per esempio, le piante tropicali non riuscirebbero mai a sopravvivere a basse temperature. Potrebbero morire già a temperature superiori allo zero. E le altre piante? È così pericoloso se raggiungono la temperatura di congelamento? Eh sì. Nel momento in cui dei cristalli di ghiaccio si formano all'interno delle cellule, le loro membrane si rompono e di conseguenza le cellule muoiono. Alcune piante, utilizzando una sorta di antigelo all'interno della linfa, riescono ad evitarlo abbassando la temperatura di congelamento. Tipo il sale che si mette per strada? Simile, ma invece di usare il sale, le piante utilizzano lo zucchero. E cosa succede quando fa veramente tanto freddo? Alcune piante sono tolleranti al gelo. L'acqua non gela all'interno della cellula, ma negli spazi intercellulari. La formazione di ghiaccio in questi spazi fa fuori uscire l'acqua dalle cellule, disidratandole, ma senza danneggiare le membrane. In autunno molte piante, presenti nelle nostre zone, vanno incontro ad una fase di adattamento, sviluppando poi in inverno una tolleranza al gelo che andranno a perdere di nuovo in primavera. Allora è per questo che quando la temperatura va al di sotto dello zero in autunno o in primavera è molto pericoloso per le piante.